come potete vedere è un bellissimo posto da cui c'è il vollo dell'angelo chilometro e mezzo che scendi su una fune imbracato e arrivi fino a 120 km orari cosa che l'ha dato il nostro tour non abbiamo potuto fare ed ecco che arriva il nostro ciclista organizzatore del tour il patron del tour, del giro no guardi il gruppo è già passato da 5 minuti il mio vestito sembrava un poliziotto vedi 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 che io mi tolgo questo coso che sudo andate pure iscriviti al canale so via down by the sea a western trail here living free iscriviti al canale andate andate a 2 minuti di vantaggio che cosa eh? all'intermedio del pranzo il gruppo è sempre compatto no io sono arrivato 2 minuti fa vuol dire che poi partiamo tutti insieme ah certo riparte tutto compatto è uguale ferma tutto allora vediamo dove Banca Popolare non ci interessa il centro qui la piazza qua sopra eh andiamo a vedere visto come è tutto ordinato all'ingresso le ciepi tutti tagliate per venino tutto pulito si si al tunno fanno le foglie ah una fontanella una strada completamente deserta eh non lo so se sia potabile ma si divenzio si e si i e i i i i Grazie a tutti. Speriamo. 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 Ancora su? Sì, ancora su. Speriamo. 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 Se le mettiamo in magazzino le teniamo in sala, tanto che ce l'ha abbastanza. Monta, rimonta le bosse. Benissimo, signora. Cioè, è un minuto da qui. Ma allora conveniva venire da qui. Se fosse fare parte sopra. Sì, sì. No, no, no. Potevamo pure fare il giro in piazza e venire qui. Sì, sì. C'è tutto il shampoo, il sabone. Sì, sì. Benissimo. Allora, vedete il resto. Lei, essendo vingitore di tappa, faccia un commento. L'ho curato fino all'ultimo chilometro e poi ho montato l'andatura. So che ce n'avevo e non ce n'era per nessuno. La volata del gruppo l'ha vinto il numero due che è Mario Placidi. No, no, dico tre. Il gruppo è stato vinto da Claudio Renga. A tre minuti, no? A tre minuti. Però credo che ci sarà comunque una squalifica perché ci ha un po' più ritardato a tutti, ci ha fatto un po' di costruzione. Sì, va bene. Va bene, d'accordo.